Per ogni donna che lavora ci vorrebbe una moglie, per ogni donna che lavora ci vorrebbe una giusta retribuzione, come previsto dall'articolo 37 della nostra Costituzione. Per tutte e tutti in generale ci vorrebbero asili nido, il modo migliore per spendere i soldi pubblici. Ci vorrebbe un welfare all'altezza della situazione che sappia aiutare chi è nei momenti di fragilità. Ci vorrebbe una legge sulla fecondazione assistita più degna di un paese civile, sicuramente migliore di una legge 40 giustamente martoriata dalla Corte Costituzionale. Ci vorrebbe un progetto di governo fatto anche di adozioni più semplici, per i singola anche, per le coppie gay anche. Ci vorrebbe una cultura politica che ci sembra molto lontana da quella dell'attuale esecutivo rappresentato dalla Ministra Lorenzin. Prepariamo tempi migliori, facciamolo per i nostri concittadini perché l'Italia diventi davvero un paese per le piccole e per i piccoli.